Ciao a tutti! Allora, eccomi qui, sono stata un attimino assente perché non sono stata bene, niente di che, insomma, influenza di stagione, però è stata abbastanza pesantina, ecco. Forse si sentirà ancora dalla voce, non ne sono uscita ancora del tutto, però, insomma, un po' di fiato, diciamo, per parlare di quello che è accaduto ieri ce l'ho e quindi usiamolo. Allora, cos'è accaduto? Innanzitutto sappiamo tutti che giorni fa, insomma, è venuta a mancare una persona cara a Giuseppe, forse la persona più cara a Giuseppe. E quindi, insomma, c'è stata da parte di YouTube, diciamo, ci sono stati vari post, vari commenti anche, insomma, per ricordare questa persona. E a me, personalmente, questa cosa è piaciuta. Il post l'ho fatto anch'io perché, comunque, questa persona, anche se minimamente, ha fatto parte di questa piattaforma, nel senso che ha fatto anche dei video, ha fatto anche dei live e quant'altro. E quindi, diciamo, che era una YouTuber. Quindi, già per questo, visto che, insomma, comunque, anche se minimamente ognuno di noi la conosceva, io penso che ricordarla in qualche modo, insomma, fosse un atto dovuto al ricordo, appunto, di questa persona. Perché non ricordarla, non esprimere il proprio dispiacere, perché, insomma, di dispiacere si è trattato, dispiacere sincero, anche se non la conoscevamo, questa persona, perlomeno io non la conoscevo, però devo dire che mi è dispiaciuto tanto, perché è una persona che, comunque, ne ha passate di ogni, di ogni colore, insomma. Quindi, ti dispiace, insomma, ecco. E niente, io penso che sia stato bello ricordarla e non lasciarla scivolare via, come se niente fosse. Tutto qui. Comunque, ieri cosa è successo? C'è stata una live di Chiara e ci appare lei, praticamente, impigiamata con un paperino, con questa cipolla e quant'altro, e dice che è molto agitata, che non ha fatto una notte allegra, ringrazia la sua amica di YouTube, che è stata al telefono con lei, ringrazia il suo moderatore e il marito, che le ha fatto una camomilla. Ma cos'è successo? È successo che il 7, il 7 di febbraio, prima che mettesse a dormire il figlio, l'amica di YouTube la chiama, dicendole che era preoccupata e le ha detto che una persona, tramite Instagram, l'ha avvisata che Giuseppe si vuole vendicare di lei, praticamente, e farle del male, sia a lei che a Davide. Lei chiama tutti, cioè tutti quelli che la stanno seguendo, a essere testimoni che se le capita qualcosa a lei e al marito, la colpa è di Giuseppe. Io vorrei sapere come facciamo noi ad essere testimoni di una cosa che afferma lei, sinceramente questo io non l'ho capito. Comunque, ha detto che dopo che è stata avvisata dalla sua amica, insomma, che questa persona sapeva che Giuseppe voleva vendicarsi, ha cercato di contattare questa persona, ma non le rispondeva. E dopo un po' sono spariti anche i messaggi su Instagram. Però, a un certo punto, lei cerca fra i suoi messaggi e effettivamente trova un messaggio rivolto a lei, dove dice che ha sentito telefonicamente Giuseppe, che era in un locale e che ha urlato che si vendicherà. Chiara le fa delle domande per capire meglio la situazione, e questa ragazza dice che Giuseppe non era lucido mentre parlava e dice anche di temere per se stessa perché è di Milano. Praticamente, evidentemente, Giuseppe si vuole, insomma, vendicare su chiunque abbia anche un minimo contatto con Chiara, cioè a questo punto Giuseppe, serial killer. Dice che quando è uscito il mukbang del marito ci sono stati messaggi vergognosi scaturiti da una scia d'odio alimentata da fate. Cioè, questo tirare in mezzo fate io, sinceramente, non l'ho compreso. Comunque, ce l'ha riuscita a tirarla dentro anche questa volta. Dice che lei è solita insabbiare, cioè fate, le violenze domestiche, che ne ha le prove. Dice che da più di un mese che non parla di lei, che la sta compatendo, però praticamente fate usa le persone per mandarle contro di lei. Io adesso, questo fatto di fate manipolatrice che prende le persone e le manda contro di lei, sinceramente, non saprei come potrebbe fare, come potrebbe riuscirci. Cioè, comunque, Chiara lo dice con una tale sicumera, che insomma, secondo lei è così. Allora, o sono tutti decelebrati, veramente, gli utenti di fate, o effettivamente c'è qualcosa che Chiara forse non ha compreso. Cioè, forse magari è lei che fa scaturire quest'odio contro se stessa? Vai a sapere. Dice che tutti quanti hanno fatto post di condoglianze verso la persona che è scomparsa, ipocrite, che lei non è ipocrita, perché lei è schietta e sincera, e quindi non le ha fatte. Ci racconta che verso le tre di mattino riceve una chiamata anonima, durata circa due secondi, e dove le hanno detto me la pagherai, ti ammazzi. Due secondi, vabbè, magari era un po' di più, comunque. Lei non ha riconosciuto la voce perché era impastata e carica d'odio, però la mattina poi ha chiamato i carabinieri, gli ha messi al corrente di quanto accaduto, ha mandato tramite mail lo screenshot del messaggio della ragazza che aveva avvisato la sua amica di YouTube che al mercato mio padre comprò. E dice poi che il profilo praticamente era sparito. Lei dice che soltanto lei sa di cosa è capace Giuseppe, che ormai è una scheggia impazzita, e che chi lo difende è complice. Dice che i carabinieri le hanno detto che terranno sotto controllo la situazione, che il suo avvocato, quanto pare il maresciallo, e adesso non mi ricordo bene, ha preso appuntamento telefonico con il giudice di pace e che le hanno dato appunto questo appuntamento. Il maresciallo le ha detto che impegneranno le loro forze per fare il possibile, per metterla in sicurezza, insomma, una task force, diciamo, giusto per Chiara d'Alessandro. Dice che le viene da piangere perché lei non ha fatto nulla di male, ho i miei dubbi, ma comunque, che ha cercato di aiutare realmente questa persona, cioè l'ex compagna di Giuseppe, e noi tutti, insomma, ce lo ricordiamo quando ha cercato di aiutarla. Ci sono proprio i video in cui lei dice che voleva aiutarla perché anche lei voleva essere aiutata quando stava con Giuseppe, però non c'era nessuno che l'ha aiutata in questo senso, e poi ricordiamo anche, praticamente, il video che fece dopo in cui diceva che lei si era insinuata nel privato di Giuseppe e della sua donna per carpire i messaggi. Quindi io penso che il fatto che l'ha aiutata, io credo in questo senso, insomma. Dice che le persone che spalleggiano Faith sono dei delinquenti, che lei comunque ha parlato col suo avvocato e che le ha detto di focalizzarsi prima sul problema, tra virgolette, Giuseppe, e poi su altri problemi, praticamente quelli che le vanno contro, evidentemente, insomma. E l'avvocato gli ha detto ti prometto che pagheranno. Ecco, quindi, state accorti, non andate più contro Chiara D'Alessandro, altrimenti il suo avvocato ve la farà pagare cara, insomma. La pagherete, perché, insomma, io sono buona, ecco. Chiara, io sono buona, mi raccomando, non me la far pagare. Dice che il maresciallo ha detto di tacere su diversi punti, insomma, della denuncia e quant'altro, ma che se voleva in qualche modo far sapere a Giuseppe che aveva attenzionato Chiara le forze dell'ordine contro di lui, insomma, poteva farlo. Quindi è per questo, secondo me, che lei ha aperto questa live. quindi questo dovrebbe essere, diciamo, il... Oddio, non voglio dire la scusa, diciamo... Oddio, però mi vengono sinonimi, scusa, pretesto, alibi. Comunque, ribadisce ancora una volta che devono smetterla di aizzare Giuseppe contro di loro. Dice che se succederà qualcosa anche loro saranno complici. si rivolge a Faith dicendo che non la deve più nominare perché praticamente lei non la stava più nominando, dopodiché Faith ha fatto un post con un suo messaggio dove diceva, Chiara diceva, a chi dice che io offendo le donne si faccia vedere da uno bravo e Faith, insomma, le ha ricordato che ha offeso sia lei che altre donne. In effetti ce lo ricordiamo tutti, insomma, secondo me questo è stato un messaggio di Chiara veramente si è fatta un autogol pazzesco perché lei, insomma, di donne ne ha offese veramente tante. Quindi, Chiara, questa volta, insomma, hai toppato come si suol dire. Dice che Faith è una persona che ha bisogno di attenzioni, che è fragile, che ha bisogno, appunto, di visibilità, che è una cretina che fa finta di studiare criminologia, che ci possono credere solo quei quattro coglioni sotto le sue live. Dice che Faith sapeva che una persona alzava le mani su un bambino e comunque si è stata zitta. Vorrei sapere lei invece che cosa ha fatto. Comunque, andiamo avanti. Il tupo condito con offese del tipo schifosa e quant'altro. E poi, secondo me, se ne esce con una cosa veramente, secondo me, che merita l'Oscar per il disgusto, cioè totale, cioè proprio fa di chiara veramente una persona bassa, ecco, bassa, appunto. Dice che praticamente Faith ha la sindrome di Pollan, che questa sindrome c'era nel cervello, che da una parte non si è sviluppata. poi dice che si è rifatta un seno, come se questo dovesse essere di vergogna, cioè si è rifatta il seno, quindi è per questo che va contro di me, quindi è per questo che aizza Giuseppe contro di me, cioè io, questo fatto di rifarsi il seno, cosa c'è? Ma cosa c'entra pure Faith in tutto ciò? Io non ancora riesco a comprenderlo. Comunque, andiamo avanti. Dice che Faith cerca di circuire la figlia, ma la figlia non l'ha considerata affatto. dice poi che ha ritrovato tante conversazioni pucciose che se le mostra il canarino, cioè Marco Tito Volley, dovrà scappare. Dice che lei, sempre Faith, è in cerca di attenzioni e che la live di Capodanno ha fatto solo due visual secondo lei che l'ha cancellata dalla vergogna perché faceva schifo, quindi ne dovresti cancellare tu di video, cara Chiara. dice che Faith ha postato la foto di una ragazza, questa insomma sempre, si ritorna sempre al paleolitico, cioè quando si vuole dare delle colpe a due persone in particolare e cioè Faith è senza anima, si deve tornare appunto al paleolitico, al famoso, alla famosa setta, insomma. dice che diffiderà Faith in modo tale che lei si dovrà inginocchiare davanti a Chiara, che Faith si dovrà inginocchiare davanti a Chiara e si chiede di chi parlerà dopo la diffida visto che non potrà più parlare di lei, insomma. Poi vabbè continua con sempre le offese, dice che ha detto alla madre anche alla madre di non uscire sola, che addirittura le è arrivato un pacco ma loro hanno fatto finta di non essere in casa perché hanno paura persino di scendere insomma a ritirare ciò che gli arriva e chiude dicendo che Faith è compatita se non parla di lei. Dopodiché che è successo che apre una live anche Faith e che ribatte punto su punto su quello insomma che le ha detto Chiara. Innanzitutto che lei si è sentita con Giuseppe che Giuseppe giustamente è un uomo affranto che non hanno assolutamente parlato di Chiara che hanno parlato della compagna di Giuseppe che è venuta a mancare e lui è sconvolto non solo per la perdita ma per come è avvenuta questa perdita. Pare anche che volesse aprire una live però Faith gliel'ha sconsigliato dicendogli insomma di elaborare il lutto e poi insomma di fare quello che si sentiva di fare ma prima insomma di far sì che magari il dolore insomma scemasse un attimino perché sappiamo tutti che quando si è in preda ad un dolore un dolore grande insomma non si è tanto presenti a se stessi. Chiarisce anche la questione del bimbo maltrattato dice che praticamente avevano detto qualcuno aveva detto all'epoca insomma quando è successa questa cosa che questo bimbo veniva maltrattato ma la persona insomma che aveva fatto questa confidenza insomma che aveva detto questa cosa era diciamo in rotta insomma con la mamma del bimbo e quindi era poteva essere insomma che il bimbo non fosse realmente maltrattato ma anche questa persona l'avesse detto soltanto per rifarsi contro la mamma quindi non essendoci prove giustamente lei dice io che dovevo fare insomma d'altra parte quando c'è stata questa telefonata mi sembra che fosse tra queste persone tra Faith e questa persona che ha dato questa notizia c'era anche Chiara e che quindi anche Chiara se volendo poteva fare qualcosa ma anche lei non si è mossa quindi giustamente dice Faith di cosa stiamo parlando cioè se non l'ho fatto io potevi farlo tu non puoi accusarmi di una cosa che comunque anche tu non hai fatto ci parla del famoso Angio Edema di Chiara dicendo che è probabile che si fosse insomma autoprocurata questo labbro gonfio acquistando dei prodotti per far ingrandire le labbra da qualche sito cinese e se lo sia poi messo da solo insomma questo prodotto perché non c'era bisogno di iniettarlo ma veniva messo a contatto io questa è una cosa da prendere con le pinze perché sinceramente cioè non ci sono le prove è una supposizione e per tale noi la prenderemo parla anche di altre cose del tipo che Chiara offende le donne fa vedere anche lo screenshot del messaggio del famoso messaggio insomma che dichiara che fate ha postato sulla sua community poi fa vedere delle foto del matrimonio che le hanno mandato cioè che hanno mandato a fate foto del matrimonio di Chiara nella live che farà successivamente lei dice che quelle non sono le foto dell'album del matrimonio ma di un provino praticamente che lei non sa come è avvenuta come è venuta in possesso di queste foto del provino insomma e quant'altro comunque dopo la live di Faith Chiara si dopo durante la live di Faith Chiara si impadronisce della live che stava facendo Davide per dire ancora una volta sottolineando che persona sia Faith che persone ignoranti che credono a queste cose insomma dopo chiude la live del marito e ne riapre un'altra però insomma io non ho avuto sinceramente era più calma cioè quando ho aperto la live del marito era veramente non lo so una scheggia impazzita come ha detto lei di Giuseppe dopodiché nella seconda live era un attimino più calma però insomma sempre le stesse cose poi sono state dette allora cosa ne penso penso che questa live la live che si intitola reali minacce di morte perché insomma qua fa anche capire che quelle precedenti non erano reali visto che questa è reale insomma viene da pensare così se la poteva risparmiare a me è sembrato soltanto un modo per mettersi ancora una volta lei come protagonista della situazione insomma in un momento che magari se stava un attimino più dietro le quinte era meglio perché a me perlomeno io ho percepito questa cosa in questo senso sì questa persona è morta però io ho ricevuto reali minacce di morte quindi ancora una volta lei ha voluto essere protagonista c'era bisogno di farla questa live secondo me no ha attenzionato i carabinieri contro questa cosa che è accaduta bene finisce lì il fatto che lei ha voluto mandare un messaggio a Giuseppe della serie guarda che io ho avvisato i carabinieri secondo me non regge perché insomma se vuole farti del male te lo farà lo stesso a prescindere visto che comunque lui lo sa che i carabinieri sono attenzionati perché gli hai fatto comunque la denuncia quindi non so a che cosa è servita questa live tra l'altro monetizzata quindi tu monetizzi sul dolore tu monetizzi sulla tua vita tu monetizzi anche sulle minacce di morte che ti vengono fatte cioè poi dai della squallida ad altre persone poi non capisco il fatto di tirare Marco Tito Volley in mezzo sinceramente non capisco non capisco ecco perché ancora una volta tirare questo ragazzo che non c'entra niente in tutto ciò Marco ha detto in un messaggio ha fatto sapere che comunque procederà per vie legali un'altra cosa che vorrei dire è che c'è stato il video ve lo ricorderete tutti pochi giorni fa sia di Davide che di Chiara della serie vogliamo cambiare e che dire dopo tutto quello che abbiamo sentito dopo tutto quello che è stato anche fatto perché nel mentre c'era la live molte persone sono state bannate anche chi faceva semplici domande quindi cosa dire di questa cosa che anche quest'anno si cambia l'anno prossimo forse vi lascio con una chicca che ha detto Davide in una sua live e cioè che il terremoto a Milano non potrà mai arrivare perché perché Milano praticamente sotto Milano è pieno c'è la terra quindi il terremoto non potrà arrivare mai oggi ci sono state un paio di scosse a Milano però evidentemente sono state piccine insomma di due gradi due gradi e mezzo evidentemente lui comunque non le avrà percepite insomma comunque ragazzi questo era tutto se non tuttissimo io vi saluto se l'audio vi ha intrattenuto quantomeno insomma lasciatemi un like se volete iscrivetevi al canale e sempre se volete lasciatemi dei commenti ciao a tutti un abbraccio forte e buona giornata ciao ciao